queste mummie che non si trovano ma la fraternita però si sta occupando quanto meno della parte documentale poi però andranno insomma trovate proprio fisicamente io da anni sto seguendo la storia delle mummie ho parlato con il professor gino fornaciari dell'università di pisa ho letto con lui la sua documentazione la sua ricerca scientifica molto attuale molto documentata nel tempo poi erano un po scomparse non si sa bene dove si siano però nove mummie sono state analizzate ma chi erano e adesso noi negli archivi di fraternita abbiamo una documentazione storica storica di grande rilevanza perché abbiamo i manoscritti tutte le anagrafe delle nascite dei battezzati delle morti dal 1380 fino ai giorni nostri quindi noi individueremo queste mummie chi erano c'è possibilità che una di esse sia proprio la moglie di vasari la moglie di vasari ma non lo so questo dovremmo documentarlo dovremmo fare un dna dovremmo anche definire con radio carbonio 14 l'età l'epoca di queste mummie ma siamo molto vicini perché anche stamattina mattina ho passato diverse ore a studiare questi manoscritti antichi sono andato in archivio di stato un'altra grande merita istituzione di arezzo penso che nel giro di pochi giorni si possa chiudere questa ricerca